Musica Nella serata di ieri il personale della Polizia di Stato ha accompagnato presso il centro di permanenza di Torino Brunelleschi, il cittadino marocchino, a cui era stato notificato un decreto di espulsione del prefetto dell'Aquila e il decreto di trattenimento del questore dell'Aquila presso il centro di permanenza al termine di un periodo di reclusione nel carcere di Avezzano. Lo stradiero era stato condannato dal Tribunale di Avezzano alla reclusione di sei mesi per i reati di resistenza pubblico ufficiale e ricettazione. A carico dello stesso risultano anche altri numerosi precedenti penali e di polizia, tra cui maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce, tentata estorsione, una denuncia per reato di procurato allarme presso l'autorità, tentato furto aggravato in concorso. Nei confronti della persona, sempre il Tribunale di Avezzano aveva disposto il divieto di dimora nel comune di Trasacqua allo straniero. Per i suoi trascorsi giudiziari, il questore dell'Aquila ha disposto anche la revoca del premesso di soggiorno. Se è scientificamente provato che il cancro è la patologia che più risente nelle misure di prevenzione, gli abruzzesi sembrano ignorare questi consigli. Il 35,8% della popolazione sedentario, il 34% in sovrappeso e il 10,9% obeso, il 29,7% fuma, percentuali superiori alla media italiana. I dati sono stati illustrati in occasione della presentazione del quarto report del registro tumori della regione Abruzzo. Fra i fattori che incidono in senso negativo sulle percentuali di sopravvivenza per alcune neoplasie, vi è la scarsa adesione ai programmi di screening organizzati. In Abruzzo solo il 41,5% delle donne ha effettuato la mammografia per la diagnosi precoce del tumore del seno, il 39,3% ha eseguito il pap test per la diagnosi iniziale del tumore del collo dell'utero e solo il 16,6% dei cittadini ha eseguito il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per individuare in fase precoce il cancro del collo retto. E' stato inaugurato questa mattina sul Mona il primo distributore per auto elettriche della Valle Peligna e ubicato nel parcheggio dell'Hotel Meeting Santa Croce. Ne parleremo tra poco nella rubrica Il Punto. In Abruzzo In Abruzzo In Abruzzo In Abruzzo In Abruzzo